E' finita la gita? Devo trasportare quei suini Dai che è tutto pronto Controlla Ma non c'è Sicura? Ma non lo trovo Davvero? Eh? Forse Parcheggio Adesso si che mi sento a casa Adesso si che mi sento a casa Adesso si ci si che mi sento a casa Grazie a tutti.